Benissimo, siamo tra virgolette live, oggi è mercoledì 9 agosto 2023 voi naturalmente non lo ascolterete oggi ma lo ascolterete di domenica sera saranno le 22.15 in questo momento perché inizieremo a quest'ora con me come al solito c'è il trio Medusa, anche il duo Medusa e il trio con me, Franca da Criccio di Vulgatici e scrittrice e Luca Tacchi, dottore professore come è stato poi denominato da alcuni nostri utenti, il professor Luca Tacchi, buonasera a tutti e due buonasera, ciao allora stasera parleremo di un serial killer naturalmente tanto avete già visto parleremo di H.H. Holmes, in realtà H.H. vorrebbe dire significherebbe Harry Howard Holmes, un serial killer che fu arrestato nel 1895 se non sbaglio a Philadelphia ma che nella sua vita ne ha combinato di cotte e di crudi in questo caso è giusto dire di cotte soprattutto perché la gente la bruciava viva allora come al solito facciamo un cerco di alleggerci un po' la situazione facciamo così come al solito intanto facciamo raccontare brevemente la storia di anche se di breve c'è poco ma insomma Franca cercherà di essere abbastanza contenuta nei contenuti scusate il gioco di parole e poi Luca il dottor Tacchi farà la sua disamina la sua analisi riguardo il personaggio e le azioni poi fatte durante gli anni e vi ricordo che potete iscrivervi al canale potete fare una piccola donazione insomma qualsiasi cosa condividere perché vedo che voi non condividete mettete like commentate ma non condividete dovete prendere il vizio di condividere evidentemente non vi piacciono così tanto le vostre emisioni altrimenti le condividereste sui vostri social quindi vi esorto a farlo non costa nulla è gratis bene lascia disattiva il microfono e lascia la parola alla Franca Franca mi copre tutto tuo grazie allora Holmes nasce il 16 maggio 1861 ha due fratelli più grandi e due fratelli più piccoli durante l'infanzia fu vittima della violenza di suo padre un alcolista e dei bulli della sua scuola che erano molto invidiosi della sua bravura e loro lo sottoponevano a numerosi maltrattamenti per questa ragione i compagni di scuola un giorno lo costrinsero a toccare il cranio di uno scheletro e da questo episodio lui sviluppò un morboso piacere nel fortunare animali randaggi sottoponendoli a sadici esperimenti comunque il sogno della sua vita era quello di diventare dottore ma fu espulso dalla scuola in un primo momento perché aveva truffato l'assicurazione più in là si sposò con Clara e si trasferì e in questo periodo commise probabilmente il suo primo omicidio sempre a scopo a scopo di profitto avvelenò una donna riuscirà poi in seguito comunque a laurearsi come i soldi li troverà schiavizzando sua moglie Clara che costringerà a lavorare 8-10 ore al giorno lei era sarta quindi a cucire di continuo povera donna diciamo che questa donna sopporterà le sue angherie per qualche tempo ma poi alla fine lo lascerà e porterà con sé un figlio credo Robert si chiamasse però lui rimarrà sempre sposato con Clara nonostante nel corso del tempo sposerà altre donne le sposerà naturalmente cambiando nome e cognome perché altrimenti non avrebbe potuto io continuerò comunque a chiamarlo Holmes la sua vita un pochino cambia quando legge un annuncio di una signora che cercava un aiuto per la sua farmacia e lui si offrirà di lavorare da lei conosciuta questa signora verrà a sapere che ha il marito ammalato e quindi lui si offrirà di curare suo marito ma in realtà lo ucciderà così come in seguito ucciderà la donna dicendo prima le dice che avrebbe lavorato lui in farmacia gestendo tutta l'attività e assicurandole uno stipendio mese per mese ma poi la ucciderà e si impossesserà della farmacia con i soldi di alcune truffe assicurative e gli introiti della farmacia riuscirà a comprare un terreno da quel terreno farà edificare un edificio un enorme edificio che all'inizio era solo di due piani ma era molto grande e in seguito lo farà costruire un terzo piano questa costruzione servirà sia ad abitazione per lui ma anche per la farmacia ci saranno negozi e stanze di hotel infatti alcune stanze venivano affittate ad amici e collaboratori che finiranno poi col tempo a diventare le sue vittime l'edificio era così grande così imponente che fu chiamato il castello le camere del secondo e terzo piano erano in realtà collegate fra di loro in seguito a passaggi segreti a muri scorrevoli tutte le stanze erano dotate di spioncini da cui poter osservare ciò che accadeva dentro avevano delle porte blindate e delle stanze segrete c'erano camere insonorizzate scale e corridoi che finivano contro un muro ogni stanza aveva una botola nel pavimento che si apriva a comando e serviva a far scivolare la vittima fino in cantina lì in cantina si trovava un'enorme piscina che aveva riempito di acido corrosivo dove Holmes immergeva i corpi e i cadaveri dei malcapitati tutte le stanze inoltre erano delle vere e proprie camere a gas progettate per uccidere chiunque si trovasse all'interno infatti esse potevano essere chiuse dall'esterno e i muri erano foderati da amianto in questo modo Holmes era libero di dare fuoco al gas presente nell'ambiente in una stanza c'era pure un forno crematorio con questo sistema si stimerà che tra 1892 e il 1894 un numero enorme di imprecisato di clienti di qualsiasi età finirono anche bambini finirono torturati e uccisi in quelle stanze il suo maggior diletto era quello di osservare dagli spuglioncini le sue vittime morire lentamente soffocate affittava infatti quelle camere intrappolava dentro la vittima e quindi dagli spuglioncini godeva delle loro urla dei loro lamenti e li faceva morire perciò affissiati e a volte li gasava a volte incendiava il gas per carbonizzarli e i corpi li recuperava li eviscerava scarnificava per poi vendere gli scheletri agli università o agli studi medici perché all'epoca non esistevano le riproduzioni degli scheletri ma venivano usati dei veri e propri scheletri umani tant'è vero che in precedenza lui aveva spesso si era spesso recato al cimitero scavato i corpi dei morti e fatto lo stesso lavoro e venduto gli scheletri agli studi medici o all'università a volte però le vittime venivano sottoposte a dissezioni e esperimenti senza finalità scientifiche solo per sua soddisfazione nel 1892 ci fu una grande esposizione organizzata in occasione dei 400 anni della scoperta dell'America molte delle sue vittime furono quindi dei semplici turisti la frequenza degli omicidi era molto elevata così come il guadagno che ricavava dalla vendita degli scheletri ma nessuno nutri i sospetti anche se le sparizioni di persone continuavano velocemente e rapidamente fu sospettato per la prima volta per truffa non per gli omicidi ma e quindi una volta sospettato per queste truffe si vide un po' accerchiato e per questo motivo accerchiato anche dai creditori nel 1894 abbandonò il castello diverse settimane dopo con il suo complice Pat Quinlan bruciò l'edificio perché era molto arrabbiato con Holmes perché fra le vittime tra le sue vittime aveva inserito anche l'amante la sorella e sua figlia in effetti Holmes lo aveva fatto per errore le aveva tutte gasate e scarnificate Holmes nonostante questo cercò di intascare i soldi dell'assicurazione per incendio accidentale ma un investigatore mandò a monte il piano scoprendo che l'incendio era doloso e quindi anche questa volta non venne accusato di nulla però dopo questo episodio lui cercherà di mettersi al sicuro e esegui un'altra truffa all'assicurazione ma venne scoperto e finalmente arrestato in carcere conoscere Marion che diventa un suo collaboratore una volta liberati insieme infatti mettono in atto un omicidio ai danni di un altro collaboratore di Holmes Benjamin Pitzel mettono in atto una truffa che non era non era la prima volta che mettevano in atto una truffa simile praticamente un cadavere sfigurato veniva fatto ritrovare prima naturalmente questa persona firmava un'assicurazione e il beneficiario era naturalmente Holmes la persona scompariva veniva preso un cadavere dal cimitero fatto ritrovare e fatto identificare come il titolare dell'assicurazione di solito gli veniva distrutto il viso in modo che non fosse riconoscibile questa volta però la persona che fu uccisa davvero fu Benjamin Holmes e quindi fu Benjamin Holmes a questo punto doveva in tasca il premio e doveva dare la metà a Marion ma in realtà lui in tasca l'intero importo e sparisce quindi Marion per vendicarsi avvisa l'assicurazione della truffa e scattò il mandato di arresto per Holmes riuscirono ad arrestarlo a Boston il 7 novembre 1894 e lui avendo fatto terra bruciata intorno stava per imbarcarsi verso l'Europa lo arrestano in tempo in tempo aveva sempre cambiato città e nome in continuazione e per questo fino ad allora l'aveva sempre fatta a panca fu prima riconosciuto colpevole di quattro omicidi poi però ne confessò altri 27 ma la polizia nel castello trovò ben 150 scheletri e altri resti umani resti di probabili vittime molti irriconoscibili perché erano stati completamente bruciati o dissolti nell'acido venduti e fatti sparire Holmes parlò di oltre 133 vittime nello scrivere una sua biografia ma la polizia ne aveva calcolate anche più di 200 poi poi disse che non era vero però in quella biografia aveva parlato di 133 vittime nel 1895 fu processato e venne dichiarato colpevole di 9 dei 27 delitti confessati e di gran parte delle frodi assicurative fu condannato a morte la sentenza fu eseguita il 7 maggio 1896 e lui aveva 34 anni fino all'ultimo voleva essere chiamato dottor Holmes il castello divenne un'attrazione per gli abitanti e i turisti e fino a quando un secondo incendio scoppiato misteriosamente loro a self-suolo scusate non riuscivo a riattivare il microfono e davo la parola a Luca prego Luca si mi senti oggi abbiamo problemi tecnici allora Holmes è appunto un capostipite dei dei moderni serial killer praticamente la diciamo la criminologia moderna fra virgolette riguardo ai crimini seriali così parte da lui e da Jack lo squartatore che sono coevi poi chiaramente ci sono anche stati come dicevamo l'altra volta altri serial killer nella storia fin da insomma fin dalla notte dei tempi basta pensare a Caino quindi lui essendo poi tra l'altro coevo di Jack lo squartatore rappresenta un po' l'archetipo su cui poi si è costruita se notate la fantasia della della insomma delle masse perché perché è un dottore che fa tutta una serie di stratagemmi quasi un antieroe che addirittura fa un castello con le botole con i trabocchetti le stanze della morte è un personaggio abbastanza camaleontico è un truffatore per lui appunto poi vedremo sulla motivazione cercheremo di capire che tipo di serial killer è appunto lui rappresenta quel come dire un archetipo di serial killer che poi spesso quando si vedono determinati tipi di delitti si va un po' a rievocare del dottore matto dell'uomo comunque di alta borghesia comunque un borghese di buona intelligenza che si muove nella notte come un predatore quindi appunto ha ha creato questo questo prequel questo personaggio che poi è stato comunque anche rievocato più volte perché Giaco lo squartatore in tanti pensano appunto che sia un dottore il mosto di Firenze anche lì tanti hanno sempre ipotizzato al di là del del dottore di Perugia anche altri altri così altre ipotesi andavano comunque a cercare un dottore ma eccetera eccetera quindi effettivamente Holmes ha permeato il subconscio collettivo creando questo questo questa questa nota iniziale questa nota di Diapason che poi ha creato appunto questa questa grande aspettativa su determinati tipi di serial killer lui appunto è come dire è è uno dei primi dal punto di vista moderno però è molto atipico perché è più un truffatore che un serial killer cioè lui sicuramente aveva una vena sadica psicopatica narcisista era un non è assolutamente un personaggio empatico era una persona che per il guadagno e per la diciamo il proprio piacere non guardava in faccia a nessuno addirittura appunto chiese a questa amante di abortire e poi mentre la faceva abortire l'ha uccisa quindi insomma è una persona veramente spietata che anche in punto di morte manterrà una calma e una freddezza incredibile e quindi si parla veramente di 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 cioè non è classico serial killer che si muove per per come dire per piacere sessuale appunto lui lui cercherà ogni volta di trarre profitto ogni volta molto spesso di di trarre profitto dagli omicidi che che faceva oppure di ehm di 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 come dire eh di addirittura di creare delle truffe molto architettate eh con la sottrazione di cadaveri quindi è un personaggio se calcolate appunto che è iniziale è comunque poliedrico è un personaggio molto complesso molti serial killer poi in futuro eh verranno come dire eh seguiranno in qualche maniera eh la sua la sua impronta perché esempio il furto e eh anche il fatto della violenza sugli animali in in giovane età eh abbiamo già visto sarà un elemento ricorrente anche nella catalogazione scientifica del comportamentale del serial killer quindi lui appunto rappresenta sia l'archetipo che anche una summa di di varie di varie eh di vari atteggiamenti che eh che comportamenti che poi hanno scientificamente i serial killer e lui appunto la libido non emerge molto cioè non non è che si si qualifica come un predatore sessuale avrà anche appunto una vita abbastanza normale appunto di vista affettivo tumultuosa sì però niente di di sconvolgente comunque anche lui in nel nucleo originale della famiglia aveva avuto un po' di difficoltà quindi vediamo che anche lui comunque diciamo eh le le quindi al di là della predisposizione come diciamo sempre comunque anche il ruolo del padre mi pare aveva influito abbastanza eh chiaramente si parla di un di un personaggio decisamente peculiare proprio perché non non esisteranno mai altri con quei numeri lì e quella libertà e quella capacità anche di appunto di addirittura creare questa specie di Luna Park eh dell'orrore su questa questione qui poi ci sono varie voci contrastanti perché pare che comunque la stampa poi ci abbia ricamato abbastanza sopra quindi non si capisce dove siano poi effettivamente contorni tra reale e eh diciamo ricostruzione giornalistica per vendere qualche giornale in più comunque anche eh lui nella biografia metterà numeri abbastanza importanti perché lui dichiarerà centotrentatré eh omicidi addirittura la eh la polizia dirà che di aver trovato tra le 150 e le 200 resti umani di persone differenti quindi nel in questa specie di di castello che che va costruito quindi insomma eh si 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 parla comunque che se fossero confermati quei numeri lì saremmo veramente eh i livelli molto 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 alti curiosamente non si è mai accorto nessuno a parte lui che scappava cambiando il i nomi eccetera eccetera però curiosamente anche quando c'era il il castello aveva dei complici e eh arrivano le persone intorno a lui ma nessuno si è mai fatto tante tante domande quindi anche lì è molto molto curiosa questa questa questo fatto e poi anche lì se non sbaglio sempre in Chicago come per buona parte era Chicago come come per John Wayne Gacy quindi povera polizia di Chicago quante gliene capita e come tipo di di persona appunto era sicuramente un appunto un uno un serial killer abbastanza raro che lo fa per guadagno sono pochissimi i serial killer che lo fanno per guadagno uno ad esempio è stato Donato Bilancia che per alcuni tipi di omicidio l'ha fatto per guadagno ehm perché Donato Bilancia ha fatto sia omicidi di tipo criminalità organizzata che degli omicidi invece di di predazione sessuale e quindi che è un caso abbastanza appunto atipico del serial killer però lui appunto quello che più emerge questa questo bisogno continuo di far soldi e di emanciparsi economicamente ehm quindi sembra quasi che la sua sia veramente una specie di delirante corsa verso il successo ehm fatta appunto vendendo scheletri che talvolta sottraeva dalle da dai cimiteri e talvolta si diciamo si si procurava in altra maniera questa questione breve parentesi del furto dei dei corpi dal cimitero non era strana per i medici dell'epoca perché perché le autopsie ancora non erano ben viste e c'era soltanto qualcuno che donava il proprio colpo alla scienza come adesso esempio si donano gli organi no? Più o meno era lo stesso tipo di di così diciamo facendo un piccolo paragone anche se non è chiaramente la stessa cosa però si poteva nelle università e nei nei laboratori e i medici eh potevano lavorare fare dell'autopsia e studiare il proprio umano solo se qualcuno donava il proprio corpo alla scienza oppure andavano la notte a rubare corpi uno che famoso che la notte andava in cerca di corpi di cadaveri era Leonardo da Vinci secondo alcune ricostruzioni perché proprio per rifare quelle tavole di anatomia che lui faceva a quanto pare andava a recuperare qualche corpo questo chiaramente beneficio di inventario comunque io mi ricordo che appunto c'era questa questione che lui per fare quei disegni se vi ricordate aveva fatto tutta una serie di disegni anatomici con con questi 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 figure umane dove si vedevano tutti i fasci muscolari eccetera eccetera ed è appunto questo fatto di sottrarre i corpi al di là del mondo del dottor Frankenstein era comunque una pratica che spesso i giovani medici facevano per studiare e per aumentare la propria esperienza quindi lui si inserisce in questo diciamo malcostume chiamiamolo così barra necessità e poi vendendo lo scheletro che lui poi trattando il corpo estraeva lo scheletro lo ricomponeva e lo vendeva ai alle università ai medici eccetera eccetera che lo usavano come appunto elemento di studio per insomma tipico oppure delle scuole nelle università per per comunque fare anatomia appunto è un serial killer che difficilmente riusciamo poi a ritrovare identico nella storia proprio perché la parte sessuale è pressoché poco influente ma almeno per quello che sono le ricostruzioni però appunto rimarrà nella storia come un archetipo che appunto chissà quante volte riverrà ricercato questo questo dottore matto allora sentite sì perché anche a me mi sta facendo l'imito il microfono comunque va bene allora in realtà io ti devo fare una domanda in realtà la storia di di Holmes mi ricordava molto poi sono andato a guardare in realtà non è così perché è ispirato sempre a killer ma che non è ma la storia del film è scritto Monsieur Verdoux è un film di Charlie Chaplin scritto e diretto da lui nel 1947 e parla di un zizio appunto che per campare la famiglia diventa un truffatore e truffando vecchie vedove anziane vedove persone zitelle eccetera 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 le uccide col veleno e si possessa dei loro beni in realtà sono andato a controllare questa è una storia che fa riferimento a la figura protagonista ispirata a quella del cele plurimicida francese Henry Landru e io ho visto un po' la storia e sinceramente vorrei scusate la pronuncia conosco un po' l'inglese ma il francese assolutamente no e quindi lui è diversa non credo si pronuncia così ma insomma non è quelli barba blu barba blu esatto perfetto barba blu barba blu è appunto è stato fatto un film con Charlie Chaplin con il protagonista che racconta la storia appunto è stato preso spunto da barba blu in realtà volevo chiedervi se volevate se il pubblico magari voleva anche conoscere questa storia perché come sapete le portiamo avanti storie anche che ai molti non è conosciuta anche questo qua che stiamo di cui stiamo discutendo adesso adesso è conosciuta da molto pochi anche se negli Stati Uniti Holmes è considerato uno dei più feroci assassini io dico sempre gli ultimi due o tre abbiamo Fish Cicatilo e questo qua insomma se la giocano anche Gain se la gioca molto insieme a questi tre il filone dei medici quelli quelli che poi appunto facevano come si dice a Liborno facevano l'achea che praticamente facevano la cresta sulle persone che uccidevano che sono poi appunto cioè poi tutto il filone esempio degli angeli della morte ci sono anche quel tipo di serial killer lì sì lui aveva una parte di questo tipo di appunto di comportamento ci sono è vero è vero allora quello che io ti volevo chiedere è che non credo che questo sia il caso noi abbiamo detto lo ha detto tu lo ha detto la Franca è che Holmes era stato accusato inizialmente di quattro omicidi giusto poi di 27 che sono stati accertati poi lui dice di aver ucciso oltre 200 persone però lui ne ammette 133 chiaro vedi queste situazioni qui spesso lui lo faceva per vendere esempio più copie del libro tanto per dirti anche se poi non poteva goderne dei soldi però ormai era quel modo di fare altri invece lo fanno per cercare l'infermità mentale quindi ti chiedo perché molti ammettono più di quello spesso e volentieri di quello che hanno realmente fatto appunto proprio per o per anche per un discorso hedonistico di autocelebrazione di narcisismo sai andrebbe la speranza che uno dichiari sempre la verità per quanto orribile sia quantomeno per rispetto delle vittime però come dico sempre il processo è un'altra cosa che può qualche fare con col crimine in sé e quindi ha tutta una serie di dinamiche che non devono essere viste per forza come dire strettamente legate all'omicidio perché appunto poi lì c'è la strategia difensiva c'è il voler puntare verso un tipo di esempio di quadro psichiatrico per vedere se si riesce ad avere un'infermità mentale oppure c'è come esempio fece Ted Mandi ancora lì che voleva in tutti i modi apparire insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che appunto possono far presagire che ci siano appunto delle strategie dietro ai numeri che poi vengono confessati godere del vedere gli altri morire diciamo in quel modo poi guardando dallo spionicino rientra nel sadismo o è una forma diversa una patologia un'ulteriore patologia lì intanto appunto c'è da capire se erano tutte ricostruzioni giornalistiche e di appunto di o se proprio c'erano poi anche le se era tutto effettivamente com'era addirittura questa vasca con l'acido chiaro che lui si detraeva probabilmente piacere da quello che che vedeva quantomeno anche proprio per il discorso di vedere la morte compiersi quindi probabilmente c'era una forma di perversione dietro questo questo sì purtroppo non c'è un quadro psichiatrico psicologico chiaro di Holmes e appunto si deve quindi un po' cercare di delinearlo così vedendo un po' quello che più o meno ha fatto quello che gli viene attribuito comunque la sensazione di cercare il guardare come hai detto già sempre quella sensazione che tutto è fatto allo stato di guadagnare sì sì lui certo è curioso che abbia speso tutti quei soldi per fare quel castello cioè lui poi alla fine era appunto un accumulatore diciamo un disturbo compulsivo per quanto riguardava proprio il fatto di guadagnare però poi lo spendeva comunque anche per tra virgolette divertirsi se è vero che ha fatto questo terzo piano con tutti questi trabocchetti addirittura cambiando continuamente progettisti e operai per non far capire che tipo di tranelli stava costruendo quindi insomma è un personaggio che probabilmente qualche disturbo di natura psichiatrica ce l'aveva perché è stato parecchio oltre senti Luca ti faccio mi sentite sì sì funziona ti faccio una domanda mia mera curiosità no allora tante volte come in questo caso si dà la colpa si dà la colpa a delle azioni che sono successe a queste persone va bene chiamavano persone anche se in realtà almost come cicatilo non dovrebbero essere neanche chiamate persone per i fatti angusti che hanno di cui si sono macchiati e tante persone va bene da piccoli venivano maltrattati dai genitori venivano presi a schiaffi venivano frustati nella fattispecie del dottor Holmes chiamiamolo dottore un compagno alcuni compagni presero la mano gliela portarono direttamente sopra un teschio e da quel momento lui ha avuto questo shock ma secondo te vabbè secondo te se queste persone avessero avuto un'infanzia felice non sarebbero diventate poi di serial killer in ugual modo magari non di serial killer magari poi avrebbero allora questo fatto di subire violenza e poi in un secondo momento della propria vita procurare violenza su altre persone si chiama coazione a ripetere ed è un fenomeno molto diffuso tra chi esempio appunto i serial killer o i violentatori pedofili eccetera eccetera quindi è un anche ma anche insomma in forma più blanda chiamiamola così chi vive in una famiglia violenta tenderà poi a vivere a sua volta in un nucleo familiare violento esempio le ragazze che finiscono con un compagno che le maltratta talvolta vengono da un nucleo familiare in cui gli episodi di violenza o altri diciamo fenomeni devianti o comunque una genitorialità tossica è già presente perché appunto si instauna una specie di familiarità per cui poi e praticamente cosa succede che nella persona si crea una sticella e nel momento in cui poi ha il suo nucleo familiare finché non raggiunge quella sticella lì va tutto bene ok o addirittura andata bene quella sticella lì anche se va un po' più là non è un problema purtroppo sono i problemi sono quelli quei quei traumi no quelle situazioni che poi portano a una appunto una familiarità con questo tipo di problemi di natura di coppia eccetera eccetera quindi sono fenomeni molto 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 tipici chiaro se c'è una predisposizione di un certo tipo ma il bambino vive in una situazione abbastanza confortevole magari non diventerà un serial killer però potrebbe comunque manifestare dei disturbi l'alcolismo altre dipendenze oppure una magari anche dei problemi di gestione della rabbia piuttosto che altri 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 appunto disturbi della sfera più che altro comportamentale senza mai appunto su un trauma puoi creare un mostro ok andrebbe purtroppo su quelle questioni che la sfera di cristallo perché abbiamo visto che comunque tantissimi serial killer iniziano la propria storia con tutta una serie di bottoni premuti in modo errato che hanno innescato poi degli effetti farfalla incredibili e invece altre persone magari che hanno comunque di disturbi esempio penso ai tossicodipendenti in generale tanti vengono da famiglie normalissime quindi ma può darsi che per alcuni tipi di appunto di soggetti che hanno diciamo delle predisposizioni di un certo tipo se avessero avuto nell'infanzia appunto dei traumi più grossi magari avrebbero potuto sviluppare un certo una certa inclinazione criminale ok non c'è al momento il gene un gene chiaro che che dica te sei un criminale dalla nascita però insomma certo che il nucleo familiare le disavventure che erano si influiscono tantissimo pensiamo appunto Luigi Chiatti il mostro di Foligno che comunque era nato da una da una madre appunto dalla ragazza madre che l'ha mandato in orfanotrofio in orfanotrofio che è capitato di tutto poi è stato è stato adottato da una famiglia di persone per bene una famiglia di medici eccetera eccetera e comunque quel poco che aveva vissuto in orfanotrofio gli era bastato per poi diventare purtroppo un mostro nel vero senso della parola quindi ci c'è veramente queste cose influiscono tantissimo e anche appunto una non è neanche semplice poi dare una redenzione nonostante poi venga inserito in un contesto che dovrebbe essere più come dire più insomma migliore per la costruzione dell'adulto ecco sì perché tante volte io sento dire eh no ma se magari questa persona avesse avuto da piccolo un po' di cura magari uno psicologo che gli stava dietro eccetera sicuramente non si sarebbe trasformato nel serial killer che poi che poi è diventato io su questa cosa ho dei dubbi sai io ho dei dubbi ho dei dubbi perché secondo me non cioè sì devi nascere già secondo me predisposto ad uccidere gli altri animali perché ci sono persone damer se non sbaglio non vorrei dire una cartoneria non veniva dalla famiglia violenta o o disaciata giusto no damer sì aveva quel problema alla mamma aspetta comunque c'era uno di cui abbiamo anche trattato che non proveniva da una situazione come dire di estremo disagio e quindi era diventato lo stesso come dire un serial killer questa cosa mi fa pensare perché non può essere una mano su uno scheletro forzata cioè se io prendo la mano della franca e la metto su uno scheletro non è che questa mi diventa un serial killer certo la franca non ha l'età di un bambino non ha dieci anni neanche quindi è una signora che ha una certa età come tutti noi e quindi probabilmente il disagio non può essere come quello di un bambino ma che se mi dicono gli è stata affilata la mano dentro uno scheletro su uno scheletro a quel momento gli è venuto di uccidere questi sono pensieri che mi fanno pensare magari non è proprio così magari anche se gli avessero messo le mani avrebbe fatto così all'epoca la psicanalisi era agli albori la psicologia era agli albori non sapevano neanche come trattare cioè si dava la pena di morte e festa finita neanche si faceva dei grandi studi scientifici su questi soggetti e quindi anche le domande che gli venivano fatte erano abbastanza sommarie le cose più eclatanti venivano segnate e festa finita certo adesso avessi avuto tutto magari un percorso molto più psicanalitico per capire quali potevano essere non solo quegli episodi lì ma se ce n'erano altri certo cercare di capire determinate dinamiche sai appunto si parla del 1800 cioè dei primi del 900 quindi 1895 sì più o meno in quegli anni lì calcola che Freud Freud è nato nel 1856 quindi era agli albori la psicanalisi quegli anni lì proprio insomma è Freud perdono di Freud di dove era? è austriaco è austriaco invece va bene questo stile era statunitense non so se poi c'è la psicanalisi diciamo già c'era un qualcosa che già poteva ricondurre già si cominciava un pochino a ipotizzare determinate questioni ora l'ombroso mi sa che è successivo chiaramente Freud viene inteso come il padre della psicanalisi l'ombroso era del del 35 del 1800 nato del 35 e lui appunto è stato c'era sì c'era l'antropologia c'era comunque lui lui è appunto Cesare Lombroso era leggermente antecedente come perché era insomma di una ventina d'anni più più anziano di Lombroso è affondato scusate terreno a parole affondato l'antropologia criminale infatti guarda sebbene all'ombroso vada riconosciuto il merito di aver tentato un primo approccio sistematico allo studio della criminalità tanto che ad alcune sue ricerche si ispirarono Freud e Jung per alcune teorie della psicanalisi la maggior parte delle sue teorie risultano oggi sostituiti vabbè quindi c'è Lombroso già come dire era attivo però appunto era tutto sperimentale e lavoravano ancora su vabbè Lombroso c'è tutta una serie di questioni di questioni sulla frenologia quindi insomma c'erano degli albori in tal senso è chiaro che se ti arrivassero a chi le tue capisse era stato lui poi i motivi per cui lo facevano ancora interessavano i giornalisti non c'era uno studio scientifico Certo è il modo più assoluto cioè noi si rimane purtroppo purtroppo la tecnologia diciamo la verità tanto è inutile nascondisi dietro un dito a tutt'oggi non sappiamo perché alcune serie killer anche di recente formazione abbiano fatto determinate cose e adesso ci sono vari studi sia in lingua italiana polacca inglese cinese giapponese a cui noi possiamo attingere figuriamoci a quei tempi cioè che tutte queste io le chiamo le teorie no? le teorie erano ancora all'inia agli albori e quindi non si poteva certo sapere come poteva essere come poteva come all'epoca era più facile che dessero colpa in taluni ambienti a lupi mannari piuttosto che capito quindi comunque era ancora come dire la sincera diciamo l'illuminismo che c'era diciamo un progresso scientifico però ancora si tentava molto a mitizzare sono gli anni anche esempio di l'inizio della psicologia era anche era anche insomma c'era erano gli anni della dello spiritismo quindi comunque c'era una grossa moda dello spiritismo quindi c'era anche un certo tipo di atteggiamento di pensiero magico chiamiamolo così e appunto dove si c'era ancora gli anni della parapsicologia che adesso sta ritornando anche dal punto di società scientifico però già all'epoca c'era anche quel tipo di impronta lì quindi sai c'era un po' il culto a mitizzare a enfatizzare a dare un tono da quello che adesso chiameremmo supereroe anche già quello squartatore veniva visto quasi come una specie di belfagor che girava per White Chapel quindi non era tutta ragione c'era un po' di costruzione c'era sempre però quello che dici giustamente c'è una predisposizione ci sono degli inneschi se questi inneschi non vengono tutti attivati il serial killer cosa diventa cioè quanti inneschi deve avere il serial killer 2 3 4 5 6 7 se li ha tutti diventa un serial killer se non li ha cosa diventa quindi questo oppure se anziché quell'inneschi ne ha altri diventa un'altra cosa tipo Chiatti è diventato pedofilo perché è stato violentato ma se fosse stato picchiato a scuola sarebbe diventato un serial killer o un mass murder o un omicida cioè uno che semplicemente per eccesso di difesa uccide l'aggressore lì sai andrebbero trovati dei marker per capire chi è predisposto però poi si va veramente nel processo alle intenzioni in realtà quando tu hai parlato riguardo alle quando hai detto quella frase che prima davano davano colpa era più facile di essere colpa ai lupi mannari piuttosto che alle persone mi ricordo di aver letto ora non è intanto è anche un mio amico che l'ha scritto ma non mi perdonerà non ricordo il nome perché tanto che non lo sento ho letto un libro sugli omicidi a Venezia nel 1400 va bene proprio nella città di Venezia c'è un periodo dove c'erano diversi omicidi ne avessero beccato uno c'era scritto una decina tipo una decina di omicidi e tutti furono incolpati tutte persone che non c'entravano assolutamente niente per farti capire poi come è cambiato succede anche oggi che con le varie tecnologie le telecamere il DNA e con qualsiasi cosa non mi ha a disposizione anche oggi a volte possiamo anche sbagliare figuriamoci del 400 il 400 non avevano niente non c'era assolutamente nulla cioè andavano a chiedere ma lui è sospettato sì l'ho visto ho visto lui che è più attacca magari a me mi stava sulle scatole cioè io ho visto Luca Tacchi fare quella cosa magari mi stai sulle scatole non mi stai sulle scatole nel modo più assoluto ah non lo so non lo so ecco vedi se mi leggi anche nel pensiero l'emblema l'emblema diciamo l'apice di questo tipo di di problematica è stato Salem sì praticamente la caccia alle streghe di Salem no praticamente fu in ambito cristiano metodista e scusami e scusami erano i non metodisti scusami dei come si chiamano i i i oioi i vabbè se mi viene in mente praticamente noi quacqueri noi quacqueri però sono i puritani oh i puritani praticamente c'era questa comunità di Salem Salem è Gerusalemme ok cioè il nome Salem deriva da Gerusalemme quindi anche già tutto un programma insomma partendo da lì dunque Salem è questo mi pare sia il 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 massachusetts massachusetts dovrebbe essere massachusetts e praticamente era un villaggio grande principalmente puritano come come impostazione religiosa in cui praticamente fu dato potere fra virgolette a queste tre ragazze che avevano dei sogni delle visioni eccetera eccetera di fare da una sorta di oracolo per chi era chi compieva chi compieva stregoneria chi no chi aveva fatto patti col diavolo e chi no e tutto finì in un enorme maxiprocesso con un sacco di fondanne a morte mi pare undici non mi ricordo bene e lì appunto ci fu e fu tra l'altro poi un come dire si autoalimentarono tra di loro tra ansie fazioni contrapposte fino a che poi non dovete intervenire anche il governatore dello stato insomma perché era diventata praticamente sia un'ossessione per gli abitanti che poi anche un problema di natura politica perché era veramente avevano perso ogni contatto con la realtà e appunto e tante persone chi non ammetteva di essere chi si richierava innocente veniva ucciso quindi arrivati proprio all'apice della della follia e quello è l'esempio massimo che purtroppo sicuramente uno tra gli esempi massimi di dove si arriva nel momento in cui si cede totalmente agli istinti anziché usare sempre anche il diritto la ragione l'equilibrio delle parti di queste situazioni no non funziona il microfono io stavo parlando tanto per il fatto delle notte di Salem mi ha fatto in mente il libro le notti di Salem Salem's Lot il secondo libro il primo come vi ricordate di Stephen King fu Carrie e poi le notte di Salem è il secondo libro del grande re che io amo forse il mio scrittore preferito tra l'altro vi fu anche una miniserie tv di due puntate lo sai diretta da chi? da Tu Booper Tu Booper che fece il film Non aprite quella porta non aprite quella porta che ha respirato Head Game quindi si vede un po' questo rigirio quindi le notte Salem è un libro che è molto bello io l'ho letto anche in inglese si trova anche a 7 euro sempre per fare un po' di esercizio di un'altra lingua va bene io credo che a meno che la Franca non debba dire cose maestralmente importanti lei di solito non ha capito nulla volevo aggiungere prima ma poi siamo andati avanti con il discorso che Holmes aveva due frappelle grandi che non siano diventati seri artigliere e sono stati allevati dai stessi genitori esatto sempre la predisposizione esatto quindi c'è sicuramente una predisposizione iniziale a prescindere nel diventare in un determinato modo poi sì nella vita magari a queste persone si attira un po' il male dietro ripeto non è tanto il fatto di aver preso la mano averla messo a un teschio per far sì che questo potrebbe magari non avrebbe ucciso le persone ma magari le avrebbe semiziate basta ecco questo può essere un mio motivista va bene va bene io direi che possiamo a meno che Luca non debba intervenire dire qualcosa no no lo dice Franck effettivamente spesso vediamo che anche proprio Ed Green mi pare aveva un fratello che lui è quello che poi si viene ucciso durante l'incendio quindi spesso i serial killer hanno dei fratelli sorelle che poi non hanno una vita diciamo normale o comunque una reazione anche diciamo all'educazione o non educazione dei genitori o comunque non manifestano poi gli stessi tipi di pericolosità del fratello certo va bene ragazzi grazie per aver partecipato a questa edesima smissione invito ai miei due ospiti nonché collaboratori amici e chiamatele come vi pare nella prossima settimana di fare se è possibile barbablu visto che luca già la conosce quindi poi franca ride ma si chiama barbablu davvero dove ti mando il link quindi io vi saluto con la tromba e con l'imbuto e poi come direbbe qualcun altro se un gatto miau se un cane bao se è tardi ciao buonanotte a tutti ciao buonanotte